Dipingere a soli sette anni è certamente un gioco, ed un gioco deve essere per il piccolo Alessio Ferraro, il quale domenica scorsa ha inaugurato una sua personale, forse la prima, nei locali del casificio Fior d'Abruzzo a Solmona. Questo è un buon esempio di collaborazione fra imprenditoria ed arte. Oggi le casse degli enti pubblici sono vuote ed allora è bene essere sponsorizzati da privati e la signora Giuseppina Chiocchio ha messo volentieri a disposizione un locale adatto, ma parliamo di Alessio. Lui era presente nel momento in cui io dipingevo e aveva tre anni e mezzo, quattro, e prendeva le tavolette che stavano buttate lì nella stanza dove io dipingo e ha cominciato a buttare su dei colori così in maniera molto fresca, spontanea. Non ha mai mischiato il colore, ha sempre accostato i colori nella maniera giusta, quindi sono uscite fuori delle sfumature bellissime sin dall'inizio. E lui a quattro anni ha fatto un quadro meraviglioso, è riuscito a dominare tutta la superficie in maniera perfetta, a livello compositivo era perfetto, con pennellate da bambino naturalmente. All'inaugurazione c'era molta gente, amici, conoscenti ed anche artisti noti e incuriositi di vedere la pittura del piccolo Alessio. Presente il vescovo di Sommola Valva, Monsignor Angelo Spina, Monsignor Eulo Tarullo, il professore Emiliano Splendore e la dottoressa Rosanna D'Aurelio che ha coordinato l'evento. Il colore della gioia è questo il titolo della mostra. Guardando la pittura di Alessio si rimane colpiti dall'accostamento saggio dei colori, si notano momenti di figurativo, di cui egli è certamente partito, per giungere poi inconsapevolmente all'astratto. La splendore ha tenuto un'adotta valutazione sotto il profilo di critica d'arte della pittura di Alessio, però ha concluso che si tratta pur sempre di un bambino e come tale va considerato e trattato. Ed anche noi lo abbiamo considerato un bambino, alla nostra richiesta di fare un'intervista ha risposto io faccio tutto, ma questo no. Ed allora abbiamo intervistato la mamma per conoscere meglio come Alessio ha iniziato a dipingere e come giudica la sua pittura, se semplicemente un gioco oppure una cosa importante. È passato immediatamente all'astratto, quindi qualche quadro iniziale era figurativo, c'era qualche fiore, si percepiva qualche figura, invece successivamente ma in maniera molto veloce è passato all'astratto, in maniera involontaria. Naturalmente per me è un impegno perché io gli studiero, gli preparo i colori, lo incoraggio, cerco di motivarlo, di dire sempre che tutto è bello. Lui lo fa volentieri. Lo fa volentieri in quel momento, lui si carica, è talmente veloce che non è che io lo impegno più di tanto, sta lì 10 minuti, un quarto d'ora e il suo quadro è velocissimo, è una cosa molto spontanea, istintiva, per cui non è un impegno eccessivo, è un qualcosa che fa in maniera talmente veloce che non pesa più di tanto per l'età che ha. La mostra può essere visitata nei seguenti orari, la mattina 10-12, pomeriggio 17-19. La rassegna chiuderà i battenti il 4 aprile. La rassegna chiuderà i battenti il 4 aprile.